È preoccupato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, per il ventilato trasferimento del primario di ortopedia all'ospedale della Fratta. Sentiamo perché. Abbiamo saputo che lo stesso Panarello non è più direttore di quel reparto perché verrà in sostituzione un altro medico. Nulla di personale e nulla da dire sul medico che verrà perché ognuno ha le proprie professionalità, ma non capiamo davvero perché l'azienda abbia ragionato in tal senso. C'è un reparto che sta andando bene, che non dà problemi, che crea un buon clima e che porta consensi nel territorio. Bene, viene di fatto, in gergo noi politico, asfaltato per logiche che non capiamo. Vorremmo capire questo, pertanto abbiamo chiesto un incontro molto urgente all'assessore Bezzini, ma vorremmo parlare anche col presidente Gianni per capire perché questa dinamica. Io posso capire anche il discorso che un reparto non va, non funziona, allora possiamo addivenire a delle soluzioni. Ma se un reparto funziona e nel territorio non c'è nessuno che si lamenta, anzi c'è una pubblicità continua a quel reparto, non capiamo i motivi per cui lo stesso debba essere depotenziato. Mentre in Ottola ha 6 barra 7 ortopedici, la fratta Ciampanarella è uno specializzando. Nonostante questo ci sono i numeri e si decide di alzerare tutto. Faremo una battaglia.